un digital effect, ho sbagliato prima a selezionare il primer a quello che è la velocità del sistema. Ora la macchina ha cambiato la disposizione delle icone sul display e appare l'icona stop per fermare la 6x start, la 6x esegue il suo azzeramento e poi si aggancia in velocità la fotocellula dagli impulsi dell'O0. Ora entrambi gli assi sono agganciati anche se l'asse Y non si vede, non si vede lì, ora entrambi gli assi sono agganciati, o di là, e rientra giù. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!